Buongiorno, tre ospiti più questo signor drone, vero? Sì. Allora, siamo con Ercole, che è il cognome? Ercole è il cognome, il nome è Gaetano. Il responsabile? Il responsabile delle GADIT, delle Guardie Ambientali d'Italia. Eccole qua, sono alla mia destra, due le portate. Voi siete diventati, eravate famosi forse già per altre cose, ma famosi perché con questo apparecchio che si chiama drone avete scoperto alcuni inquinatori sporcaccioni che si trovavano a Giulianova su un incarico che avete avuto dal comune. Dico bene? Sì, con una convenzione che abbiamo avuto con il comune di Giulianova e che ringraziamo. E che ha dato già dei risultati? Sì, è stato di fondamentale importanza l'utilizzo del drone e soprattutto per andare sempre nel rispetto delle regole e quindi anche nel rispetto delle norme di sicurezza e quindi anche quelle previste dall'Enac per andare nei luoghi accessibili a piedi e quindi nell'impossibilità di accedere anche con la tua lettura e vedere quindi i rifiuti abbandonati nel territorio di Giulianova. Che cosa avete scoperto Filore? Beh, fino adesso siamo riusciti a risalire all'identità, quindi tramite le nostre guardie giurate in possesso dei decreti e risalire all'identità degli inquinatori. Quindi abbiamo cercato di fare un lavoro minuzioso e quindi di cercare elementi utili all'interno di queste buste poste in luoghi veramente inaccessibili e forse un po' particolari, ecco, con il raggiungimento dell'obiettivo. Lo farete per tutta l'estate? La convenzione riguarda sostanzialmente il periodo estivo? No, 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 la convenzione riguarda, la convenzione che abbiamo col comune di Giulianova è una convenzione annuale. Annuale. Avete appena cominciato dunque? Sì. Poi più o meno non dite quando perché se no uno, vabbè, ma tanto se lo dite è pieno di robaccia da qualche parte, vabbè? Sì, sì, vabbè, noi quello che voglio far passare come messaggio è che noi non è che ci sostituiamo le forze dell'ordine perché già fanno un ottimo lavoro di loro, diciamo che siamo un supporto in più per la salvaguardia di questo territorio. Lui che vede, questo si muove, ma non si muove perché è troppo basso e non l'avresti fatto anche volare qui dentro, vero? Lui è il tecnico, insomma, lei come si chiama? Di Luca Ivan. Ivan Di Luca, di? Canzano. Che fanno la vita? Io c'è una piccola impresa di elettronica. Conosci Campitelli? Come no? Sì, sì, conosco benissimo. Mi sono andato i biscotti? Sono buonissimi. Sono buonissimi. Lui invece, buongiorno. Buongiorno. Enzo De Vabbis. Di dove? Di San Nicolò. San Nicolò. E' consigliere. Consigliere? Dele Galit. Dele Galit. No, di dove? Ercole. Ercole Ghetano. No, di dove? Sono di Castelnuovo. Castelnuovo, umano. Va bene. Castelnuovo. Allora, quindi poi ci saranno degli... Come li possiamo chiamare? Ma la gente lo vede quando vola? Beh... Abbiamo visto delle foto, insomma, che si vede, non so chi c'era nella foto, si vede questo drone in alto? Sì, quella era una parte isolata, diciamo, in un territorio inaccessibile anche per le persone, quindi abbiamo... preferirete queste zone qua, dove non si può arrivare a piedi, insomma, dove la gente proprio ce li butta così, eh? Sì, anche perché comunque ci sono sempre delle normative di sicurezza da rispettare, quindi tutti i regolamenti ENAC che sono vigenti e quindi non è che possiamo fare cose fuori l'ordinario. Quindi quello che ci è permesso noi faremo. E hanno chiesto se voi riuscite a vedere anche gli inquinamenti del fiume, per esempio. L'inquinamento del fiume ci stavamo pensando, perché comunque... Potrebbe essere una bella idea, perché mandare un drone, quindi a distanza bassa, e comunque vedere risalire alla fonte dell'inquinamento, è nei nostri progetti. Quello dovete fare. Sì, senza... Lo può fare questo apparecchio? Sì, sì, lo può fare. E perché non? Quello è un problema grave, perché poi l'inquinamento dei fiumi, l'inquinamento del mare, poi di vieti di palliazione, è tutta una serie. Sì, sì, ma lì c'è in atto già una collaborazione pure con la procura per cercare di sondare, di vedere l'inquinamento dei fiumi. Ecco, noi siamo solo un supporto. Fatelo, fatelo. Posso garantirle che la procura della Repubblica è molto sensibile alle tematiche ambientali. Anzi, il procuratore è molto, molto... Sì, ma voi dovete avere l'ok della procura per fare questo tipo di indagine, quella sui fiumi, eppure potete andare ovunque, andare a guardare... No, allora, possiamo andare ovunque a segnalare quelli che sono i reati che comunque noi riusciamo a prendere ambientali sul fatto, quindi senza andare fuori le nostre mansioni, ma l'organo competente comunque sia l'autorità giudiziaria, quindi noi facciamo un supporto a queste... Voi avete una mappa, ormai, di Gironova dove dovete andare, già avete delle idee, no? Sì, abbiamo una mappa, abbiamo schematizzato un pochettino le zone più a rischio, ecco, come abbiamo fatto un altro giorno proprio un incontro sia con l'ufficio ambiente, sia con l'assessore Ruffini, appunto per cercare di vedere i siti particolarmente a rischio. Ve li ha date l'elenco, sì? Sì, 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 ci hanno fornito di tutto. Qui ci andate, eh? Ci andiamo, ci siamo... Mentre attenzione, poi si girano, eh? E si scappa? Ci siamo già andati. Quando li avete individuati? Beh, fino adesso, parlo nell'ultime operazioni fatte, circa una decina di contravvenzioni. E là non ti contesta niente perché non sbaglia, eh? Beh, è difficile trovare un rifiuto abbandonato, o meglio, più che rifiuto abbandonato, non differenziato opposto a un lato di un fiume che ci sia andato da solo, insomma. Allora, come funziona? Lui viene gestito tramite un'app della DJ Pilot, dove io lì controllo tutto, nello stato del drone, la batteria, il segnale GPS e tutto quanto. E niente, con quel telecomando che vediamo posto lì sul tavolo, viene pilotato. E tramite dei sensori e dei GPS lui rimane stabile, anche se io non, in questo momento, non controllo il joystick, lui rimane a una certa altezza stabilita. A che altezza arriva? Lui può arrivare a fine 600 metri e una distanza di 2 chilometri. Quando? 600 metri di altezza a una onda anzi di 2 chilometri. Ma a voi vi serve più basso oppure non è molto alto? Sì, a noi non ci serve andare, non ha senso, no, no, no. Quindi l'avete scoperti a che altezza? Da che altezza? Sui 50-55 metri e 60. Quindi va bene, ci vede. Sì, sì, sì. Ma voi vedete subito che ha individuato qualcosa, avete una telecamera? Sì, lui c'è una telecamera full HD che registra anche in 4K, sì, quello che vediamo lì sotto. E voi vedete in contemporanea? Esatto, lo vediamo in diretta, tramite il tablet lì, vediamo in diretta, sì. E quindi avete subito la situazione sotto controllo di che cosa si tratta? Sì, sì, a occhio, non riesco più a vedere il drone, c'è sempre il tablet dove riesco a vedere tutto, sempre in diretta. Insomma, così diventa gli esperti, voi siete i guardie ambientali d'Italia, avete sempre lavorato con qualcuno? No, questo per noi è una cosa, diciamo, nuova, sì, di ultima generazione, tanto è vero che questo qua è il Phantom 3 uscito il primo maggio. Primo maggio? Sì. Bella ciao, quindi non ricordo. Ma questo qua, voi l'avete, a spese vostre l'avete comprato? Sì, diciamo che è stato preso a spese un po' dell'associazione con un contributo. Come si mantiene l'associazione? Tramite le convenzioni, convenzioni alcune... Direi un nome importante, voi l'avete con altri comuni? Sì, stiamo attivando convenzioni a Pineto. Ma sempre per questo servizio? Anche per questo servizio. Se no altri servizi che fate, così anche per far capire... Beh, i servizi diciamo che noi spaziamo dalla vigilanza venatoria alla vigilanza zofila, vigilanza ittica, quindi è la vigilanza ambientale. Ittica pure. Anche i cosiddetti guardi a pesca. E però lì c'è la particolarità che sia sulla vigilanza ittica che sulla vigilanza zofila, quindi dei cani, quindi per quanto riguarda tutti i regolamenti comunali e generali dei cani, abbiamo la funzione di polizia giudiziaria. Se uno nota una zona che ci sono buste buttate così, rinfuse, vi può telefonare? Certo. E dire andate a vedere lì? Sì. Eh, buon'idea. Abbiamo già un numero... Possiamo collaborare con voi, anche noi, perché quando ci segnano delle cose, e se le segnalano spesso la radio per esempio, noi vi telefoniamo e voi potete, ci andate, oppure quando fanno i servizi tenete conto di quel posto, di quel sito. Com'è il numero? Il numero dell'associazione è un numero proprio nuovo. Dov'è la sede? La sede è a Castelnuovo Vomano, quindi nel comune di Castellalto, in via Mulano 16. Possiamo dare e fornire anche una mail, se ne possono aver bisogno, che è cp.teramo-guardietrattinocentraleambientali.it È complicato. Il nostro sito è www.guardietrattinocentraleambientali.it Ma è una cosa più semplice, www.guardietrattinocentraleambientale.it Sì, vabbè, ci siamo attenuti al nazionale. Dovete fare i cosi personale. Ci siamo attenuti al nazionale. Allora, non possiamo dire quando è il prossimo appuntamento, ovvero quando girate. Questo weekend, li fate i weekend, non sai? Non solo i weekend, lo facciamo soprattutto in erario serale, infrasettimanale, e il sabato e la domenica, diciamo, quando c'è maggiore affluenza, ci rechiamo proprio sul, parlo di Giulio 9 in questo caso, nei punti più sensibili, oppure dove c'è più persone, ci sono più persone, esempio sul lungomare, quindi per il rispetto dei regolamenti della zoo, fino a soprattutto dei cani. Ehm. Cioè? Cioè, vigiliamo e controlliamo tutte le persone che hanno al seguito un cane che sia microcippato e che comunque hanno tutte le bustine e palette a seguito. Pure questo fate, quello che dovrebbero fare i vigili. Sì. Anche quello. Ma no, fate no, fate quell'altra cosa. Quella la facciamo anche, tant'è che ci siamo dotati proprio ultimamente di un'ultima fotocamera che ha raggi infrarossi, tra virgolette, che comunque nell'immediatezza del fatto manda anche un'email alla nostra, diciamo, associazione, alla nostra mail ufficiale fotografando proprio il trasgressore nell'attimo dell'inguinamento. fotocamera nascosta. Proprio lui, fisicamente lo beccate? Becchiamolo con la fotocamera, fa proprio una foto, sì, in diretta la fotocamera scatta la foto e la manda nel nostro server. E poi non si può contestare, c'è la foto. C'è la foto, sì. Avete fatto già, bloccato qualcuno con foto? Con la foto no, perché appena arrivata abbiamo attenzato proprio adesso, l'abbiamo messa operativa e quindi settimana prossima metteremo in funzione anche le tre camere nascoste. Lo sapete che all'inizio si era un po' ironizzato su sta cosa anche? Delle fotocamera? Dice, no, se del drone è per pulire, ora arriva il drone, invece è meglio pulire per te puliti, cioè fate la pulizia normale, una cosa di questo tipo. Sì, no, il drone diciamo che è un supporto in più, diciamo che il drone non è che da solo faccia tutto il lavoro, il drone da una mano coadiuva il nostro lavoro perché comunque sia viene fatto manualmente, quindi vedere o dall'alto da 50 metri scoprire come già è successo in un altro comune, un bacino dove all'interno erano conferiti tra virgolette dei liguami, quindi visivamente non lo vedevamo, dall'alto lo abbiamo scoperto. E' lui dall'alto, nulla sfugge? Nulla sfugge dall'alto. Quindi un invito è stare attenti, perché poi le mulze sono salate, poi 419 quant'era? Dipende dal tipo, l'inquinamento ambientale va dai 600 ai 3.000 euro, quindi una mancata differenziazione dei rifiuti nel comune di Giulianova costa una sanzione di 80 euro. Ebbè poco. E' poco, però non dobbiamo... E che cos'è invece che andava da 600 a 3.000 di cui hai detto poco? L'inquinamento, l'abbandono di rifiuti, quindi su scuola pubblica. Eh beh, invece 80 euro cos'è? No, quelle sono per le sanzioni per chi non differenzia. No, no, andiamo oltre, chi butta, chi abbandona. Chi abbandona, all'obbligo del ripristino del luogo, è una sanzione che ho detto prima. Da 600 a 3.000 ci ripenso, ovviamente. Eh sì, anche perché. Ma ci vuole, sai, sono contrario in genere a queste cose ripristine, ma qua sì. E' l'unica possibilità. Sì, dispiace, perché non vorremmo essere visti come quelli che fanno le multe. No, ma deve servire, insomma, per gli altri che siano attenti, insomma. Noi cerchiamo soprattutto di fare educazione nelle scuole, come già abbiamo fatto, e quindi abituare già i bambini, quindi con un'azione sociale, quindi di prevenzione, abituare i bambini al rispetto delle regole dell'ambiente. Anche perché l'ambiente è il nostro futuro. Se lo sporchiamo, prima o poi ne terremo contezza. Sì, va bene. Lo dico a tutti questo. È tanto presto un bel drone, invece. Ma non si alza qua, eh? Non si alza qua, eh? Non si alza contro il tetto, è troppo basso. Ma perché appena parte, parte veloce, si alza subito. No, no, no. Lui sai, i comandi miei è una cosa proprio millimetrica. Eh, no, perché non si alza poco poco così, fino a qua? Eh, ma dovevo seguire una procedura un po' lunga. Che paura. Sì, stiamo in diretta. Che paura che si rompa. No, 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 no. Questo è proprio millimetro. Questo per questo. Deve essere calibrato, perché ha pure delle norme, cioè da una sicurezza che se nel caso va fuori controllo, c'è un tasto che lo riporta. Voi lavorate anche di notte? Noi lavoriamo, sì, diciamo che l'80% del nostro lavoro viene sbottito in un ario serale e notturno. E questo vede? Voi non lo vedreste ovviamente? Non lo utilizziamo in fase notturna il drone, quindi... No, no, quindi poi apre altre cose. Sì, momentaneamente non lo utilizziamo, anche perché in arrivo pure un'altra fotocamera infrarossi, vedremo, però cercheremo di farlo soprattutto in orario diurno e crepuscolare, quindi non... Crepuscolare. Ma pioggia l'ostacola? Sì, sì. Niente, allora non potete fare niente. È un punto tempo, il taclone d'Achille. Esatto. Niente. Oggi potreste fare tutto, per esempio, con questa splendida giornata di sereno. Sul mare ci andate? Potremmo andarci, però non è... Se potete andare bene o potete andare sui fiumi? Sui fiumi, sì. O comunque non ci sono persone. Fate una cosa che l'hanno scoperto, uno che è inguida sui fiumi, che finora si non ha scoperto mai o quasi. Torni qua a te l'hanno scoperto, ma sulla costa no. Sarebbe un grosso l'esercito. Ci sono delle attività che stiamo svolgendo che per un segreto istruttorio non posso rivolgare, però ci stiamo adoperando. Dai, dai, via la società. Non posso. Staticamente no. Falo per la violazione. E sui fiumi? Falo questo. E sui fiumi. State lavorando, insomma. Siamo lavorando. Avvisiamo. Lui non vuole dire niente. Dica qualcosa. Ha detto tutto il Presidente. No! Non basta. Se questo vi appassiona questa nuova attività... Certo ci appassiona. Se no, togliamo il tempo libero alla nostra vita privata, quindi... E tra po', perché voi prendete soldi? No. Assolutamente no. Niente prendete. Quindi per indusiamo, per passione. Sì. E come mantenete? Ci manteniamo con le convenzioni che facciamo con i comuni. Quindi dovete lavorare, dovete fare... Dobbiamo, più convenzioni facciamo, più ovviamente riusciamo ad acquistare prodotti... Le convenzioni sono sempre per i controlli sui rifiuti oppure su che? No, no. Le convenzioni spaziano sia per il controllo dei rifiuti, sia per il rispetto dei regolamenti locali e comunali, anche per quelli soprattutto animali. Anche sui cani, avete detto. Sui cani, sulla materia venatoria, quindi come vigilanza venatoria e come vigilanza ittica. Insomma, possiamo operare... Noi abbiamo una leggera preferenza per due cose, per i rifiuti e per i fiumi. Noi siamo qui. Se voi fate dei risultati qua, noi vi daremo grande spazio. Quindi impegnatevi... Tutta la nostra intenzione di... Io da quel poco che posso dire, parlando con i sindaci di alcune zone costiere, come Pineto, come Giulianova, come Tortoreto, comunque, che sono veramente risultati sensibili e attenti a questa problematica. anche perché loro sono la fine di un percorso che comunque non è... È vero questo. E poi pagano loro, insomma. E poi si trovano alle spalle. E posso garantire che la sensibilità avuta e toccata con mano, nelle loro parole, è stata veramente alta e grande. Fateci sapere tutto quello che fa, tutti i risultati che ottenete. Come? Sarà un piacere. Ma sto servito i struttori non si può proprio... Oggi no. Poi la prossima volta. Ma è un fiume, comunque. I rimi sono assenuti. Sì. Stiamo facendo operazione con voi fiumi. Attenzione, eh. Quindi non fate gli svelti perché lo scaricate. L'altro giorno c'era uno scarico piccolino, ma c'era pure. Non dovrebbero esserci. Eh. Non dovrebbero esserci. E poi dovete dare una mano a... Certo. Ti vedo... Falli imbaurire, invece. No, vabbè. No, non è il nostro comito. Pango e mille. Io non ce la penso mai sulla repressione. Ma qua falli imbaurire. Arresto non c'era. Cerchiamo di... No, l'arresto non c'era. Cerchiamo di... Uno che butta in nessuno è una cosa gravissima. Eh beh, è un discorso io. Verrà denunciata l'autorità giudiziaria. Ci sta anche la multa, ma potreste essere anche denunciata da giudiziaria. Quindi non inguinate. Ci sta la possibilità, fatele differenziate, lavorate un po', mettete fuori, non buttate. Perchè? Sì. Anche. Stessa stanza, stessa male, però ce l'ho inguinato, eh? Perchè sennò ci sono problemi. Sì. Va bene, allora noi vi ringraziamo, ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie a voi. Sono benissimi dall'invito. Noi vi seguiamo, eh? Quindi fateci sapere, perchè veramente è un ottimo servizio. Grazie. Siamo aggiornati. Siamo aggiornati. Sì. Resto a tutti voi, grazie e naturalmente buon lavoro. Grazie. Grazie. Anche perché lo fate, perché poi è tutto un altro messiere, fate, eh? Sì, sì. Tutto un attimo. Quindi nel tempo libero, lavorate per noi, eh? C'era per noi. Gratuitamente. Gratuitamente. Facciamo qualcosa. Questi qua lavorano per noi, non lo realizziamo, perché insomma tutti voli fondi. Gratuitamente. Facciamo in maniera totalmente gratuita e con persone formate e professionali. Da corsi di formazione che ha visto eccellenti docenti. Grazie a voi, naturalmente buon lavoro. Ci risentiamo. Tra poco andremo con altri ospiti. Grazie. Grazie con altri ospiti. Lasciamo il drone e torniamo con i piedi per terra, come si dice. Lasciamo l'alto e veniamo a parlare di turismo, perché è il periodo di cui si dovrebbe parlare tutto l'anno, per la verità. E forse qualcuno ci sta pensando. Buongiorno al dottor Marino Firmani del villaggio Salinello, che è il più grande del mondo. Il più bello del mondo. Il più bello. Ed è il più grande del centro-sud. Centro-sud. Gestito da uno dell'estremo nord. Gestito? Io intervengo. Non lo metti il vero. Sta là. Dal Friuli Venezia Giulia. Se io scendo dal Friuli Venezia Giulia. Scendo quasi tutte le settimane. Perché poi riparte? Poi riparto. Col treno? No, il treno non c'è la fermata, per cui non posso... Non posso... Ma forse, eh? Perché ricordo qui Gianluca Grimi che... Quando fermerà, questa era la domanda. Potrebbe anche fermare subito. Perché lui, insieme al collega del commercio, ha riposto l'accento sull'importanza della fermata dei treni per il turismo. Strategica. Strategica questa cosa. L'apporto del comparto ferroviario per il settore turistico fondamentale. Beh? Mi fermate. Ma stavi parlando tu? No, lo so. È una canzone. Mi sono fermato a sentire. Allora, c'è un convegno che spazia dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanare al Reno, che tocca a tutti i punti. Si chiama turismo integrato. Voglio che il turismo da solo non basta raggiungere gli obiettivi. Per la precisione si intitola i turismi integrati. Ecco detto. Il turismo integrato. I turismi integrati. I turismi integrati. E sono? Quali sono? Diciamoli un po' e rinchiamoli. I turismi integrati all'interno di un progetto Paese Italia, per cui dalle Alpi Paese Italia. Paese Italia. Vogliamo valorizzare di più il marchio Italia, il marchio che ci viene riconosciuto in tutto il mondo con il marchio che ha maggiore valore aggiunto e vogliamo valorizzarlo promuovendo l'argomento del turismo integrato con il territorio, integrato con il mondo della cultura, integrato con il mondo dello sport. E della fede. Anche della fede. Anche della fede. Anche a questo convegno, che se lunedì all'altro ci siamo, ci sarà anche il Vescovo. Esatto. Il Vescovo che ci darà l'onore di poter inaugurare con una benedizione anche del nuovo Centro Congressi, ma porterà anche la sua testimonianza perché lui rappresenta un mondo che attrae i turisti. Conosco il turismo religioso. Il turismo religioso. La domanda è tanto sulla risposta. Serve il nuovo depuratore di Tortoreto? Serve completamente nella sua complessità. Diciamolo, non si può scherzare là. Lì non si può scherzare. Quando abitanti fate voi al massimo d'estate? 4.200 al giorno. Tutti vanno al bagno, credo. Tutti vanno al bagno. Per l'estate magari un po' di senderie può succedere, no? Col caldo. Quindi vanno più di una volta al giorno. Non si può sempre sperare nella stitichezza delle persone. Quindi una piccola città. 4.200 persone. Il depuratore è sempre quello. Tortoreto, voi, Giuliano Vanord. E Mociano mi pare. Marina di Mociano pure. Quindi questo è un altro problema che va risolto nel momento che abbiamo detto. Si è parlato stamattina di una polemica che riguarda Casabruzzo all'Expo di Milano. Ci sono state delle critiche. Voi ci siete stati? Ma noi abbiamo partecipato a Casabruzzo. Abbiamo colto l'opportunità perché penso che Casabruzzo sia un'opportunità. Dipende come viene gestita questa opportunità perché è una vetrina sul mondo. Siamo in concomitanza di Expo. Siamo all'interno di Brera, quindi la zona più frequentata di Milano. Per cui se ci sono delle idee e c'è la capacità di interagire con il pubblico, la gente entra in Casabruzzo. La gente entra in Casabruzzo, quindi è una bellissima vetrina che si apre al mondo. L'imprenditore deve cogliere l'opportunità per farsi vedere e per portare delle idee che possono attrarre i passanti. Noi ci siamo stati, siamo stati il 27 maggio, abbiamo avuto diversi contatti con operatori anche internazionali, per cui possiamo solo che parlarne bene. E probabilmente anche ripeteremo perché Casabruzzo è aperta fino alla conclusione di Expo, per cui andrà avanti fino a ottobre. E perché ci sono queste polemiche allora? La gente non ci va, che ci sono... Guardi, io reputo che siano polemiche abbastanza pretestuose. Facciamo il punto della situazione. Sono due mesi che ha aperta Casabruzzo, per cui siamo ancora all'inizio dell'esperienza. Solo all'inizio di questa esperienza hanno già potuto godere di questa vetrina mondiale parecchi imprenditori, tra cui orgogliosamente anche il villaggio Salinello, che ha potuto godere di questa vetrina ampia e internazionale che non avrebbe potuto succedere, non sarebbe potuto succedere qui così in Abruzzo. Possiamo considerarli due mesi in cui i maggiori imprenditori si sono affacciati in questa Casabruzzo. Tra parenti io sono anche di Milano, tu lo sai Vinciesco. Brera è la zona più bella di Milano, che è già normalmente frequentata da se stessa al di là dell'Expo. Casabruzzo si inserisce perfettamente in questo discorso. Dopo questo primo test di due mesi sono certo che ci saranno altrettante possibilità nel pieno della stagione turistica per sfruttare pienamente quella che non poteva che essere una grande opportunità. Se poi dopo vogliamo fermarci alla solita polemica sui costi, un palazzo in centro di Milano, indipendentemente da chi lo affitti, che sia il governatore dell'Abruzzo o qualcun altro, ha i suoi costi. Questo è chiaro. Però è un'iniziativa che noi sosteniamo incondizionatamente con tutte le nostre forze. Comunque i costi all'interno di Expo sono molto più alti e Casabruzzo fa emergere questa regione nel panorama di Expo. Io vengo dal Friuli Venezia Giulia, non ho visto stesse attenzioni dedicate alla mia regione come sono state dedicate a Casabruzzo. Per cui è un'opportunità la cogliere, poi la possiamo cogliere bene o la possiamo cogliere male. Noi ci siamo stati, siamo rimasti soddisfatti e probabilmente chiederemo un'altra giornata prima di settembre. Chiude quando, già la data precisa? Chiude con la chiusura di Expo, per cui il 31 ottobre. 31 ottobre, a settembre invece volete andare. Noi vorremmo andare a fine settembre, a fine stagione. A fine stagione però c'è questa novità per il villaggio Salinello che inaugurate anche la sala congresso, quindi volete continuare a stare aperti tutto l'anno, potrebbe essere questa la novità, potrebbe essere o è? Beh, questa è la novità, noi vorremmo parlare di turismo e vorremmo essere capaci di attrarre turisti e intercettare turisti per tutto l'anno. Quest'anno abbiamo aperto l'anno con il Capodanno. Avete fatto per la prima volta il Capodanno. Il Capodanno, Natale e Capodanno. Il Capodanno è fatto i giorni di tutte le stagioni, un giorno è piovuto, un giorno c'è il sole, la neve non l'avete trovata. Sì, infatti abbiamo titolato il post Capodanno come il Capodanno delle quattro stagioni perché siamo passati da meno 4 gradi a 18 gradi nell'arco di quattro giorni ed è stato bellissimo per gli ospiti perché noi era come far vedere un catalogo completo di tutti i suoi prodotti. Freezing raining, non piacciono i termini tecnici, però pioggia ghiacciata, dalla pioggia ghiacciata al sole primaverile del 2 gennaio. Tutto in quei giorni, non garantiamo che si ripeta anche il prossimo Capodanno le stesse quattro stagioni. Noi vorremmo avere i 18 gradi anche a Natale. Nessuno ha osato fare il bagno. Nessuno ha osato fare il bagno. Adesso sì però. Adesso sono tutti in mare. Non siete ancora al massimo, vero? No, non siamo ancora al massimo, al massimo saremo da metà luglio in poi e tutto agosto. Ma è già tutto prenotato o qualcuno prenota in extremis? No, ci sono ancora prenotazioni su luglio, ci sono ancora delle prenotazioni last minute, sull'ultimo miglio si interviene con qualche attrattiva maggiore e agosto invece tutto pieno. Già tutto pieno. E dov'è che vanno? Nei bungalow? Oppure? Beh noi abbiamo una gamma di offerta molto variegata, abbiamo case in muratura, quindi abbiamo tante villette trilocali, villette bilocali. Che possono pure cucinare da soli volendo? Certo, i nostri alloggi sono dotati di cucina interna. Oppure andate al ristorante. Oppure abbiamo uno che può ospitare 600 persone. Di bar? Ne avete? Di bar abbiamo un bellissimo bar centrale, abbiamo un bar… Centrale si chiama? Centrale, centro del villaggio. Abbiamo il bar sulla spiaggia, abbiamo il bar per la discoteca della sera, poi abbiamo quattro piscine, abbiamo due campi di tennis, poi abbiamo un bellissimo campo di calcetto di nuova generazione con il manto erboso sintetico nuovo. E farete anche teatro. E poi abbiamo una grande opera, che è una grande opera, che è il nostro anfiteatro, che tiene più di 2500 persone. L'arena di Verona è un po' più bella, il nostro è un bel anfiteatro che ci distingue un po' in tutta Italia. Noi abbiamo un palinsesto doppio tutte le serate durante la stagione estiva, un palinsesto che prevede degli spettacoli nel teatro più piccolino, il teatro Conchiglia, una bella architettura che richiama la Conchiglia, con 360 posti a sedere, un target più orientato alla mezza età. E poi abbiamo l'anfiteatro, parallelamente, che dedica spazio ai musical, ai cabarelli, Quale è il tipo di persone? Famiglie, giovani, anziani, tutto c'è? Beh, noi abbiamo il pubblico obiettivo, il nostro cliente è la famiglia, il nostro cliente è lo sportivo, il nostro cliente è l'Evergreen, il nostro cliente è il gruppo, sono i gruppi. Ma adesso l'anziano viene? Evergreen, io mi identifico, Evergreen significa, Evergreen dopo i 55 anni, ahimè, ci sono anch'io. Vengono, sì. Vengono. Vabbè, insomma, ti può stare, quindi varie umanità di tutto. Vengono, ma li dobbiamo andare a prendere, non vengono automaticamente come venivano negli anni 70, negli anni 80 e probabilmente anche negli anni 90, ma siamo noi con la nostra forza, con la nostra azione di marketing che dobbiamo andare... Perché prima venivano spontaneamente? Eh, perché il turismo è cambiato, ci sono stati due fattori che hanno cambiato il turismo. Uno, la viabilità, il low cost, i viaggi che hanno abbreviato le distanze. Due, il mondo di internet, il mondo di internet che ha creato nuove offerte, quindi abbiamo dei nuovi competitor. Comunque, col treno, con che torni su a Milano, in Friuli? No, in Friuli, a Udine io salgo e scendo in macchina, in auto. Non c'è perché, puoi arrivare ad Ancona, ci sta il Frecciarossa ad Ancona? Ancona c'è il Frecciarossa. E allora non può prendere... Mia moglie, posso dire, mia moglie mi raggiunge in treno e si ferma e io vado a prenderla a San Benedetto. Ah, a San Benedetto? A San Benedetto? O a San Benedetto o a Pescara. O a Pescara. Giustamente poi a San Benedetto. E dobbiamo smettere questa cosa. No, è una cosa che assolutamente... Se si fermasse a Giulianova, lei la signora andrebbe a prendere a Giulianova, vero? Esatto. Una cosa che assolutamente va cambiata. Giulianova è la stazione baricentrica della provincia di Seramo. Una andata e una ritorno. Due, mica, vogliamo tutti quelli che ha quattro coppie San Benedetto, sei pesero. Poi le hanno messe nuove estive, poi attaccate Riccione e Cattolica... Senigallia. Sì, ma Riccione e Cattolica sono attaccate. Due fermate, eh? Ma la spieghi lì? Dobbiamo essere capaci di far valere quello che è il nostro reale peso economico. Ci dicevi le cifre. Concretamente... No, qual è il turismo in provincia di Seramo? Noi siamo... Eccolo! Noi rappresentiamo oltre il 60% dell'intero turismo apostese. Non si ferma, però. No, non si ferma. E' poi andato. Noi invece vorremmo che si fermasse. Assolutamente. Siamo il Dam Silvi a Martinsicuro. Eccolo! E ormai faccio lo farlo vedere ripetutamente. Il litorale Teramano. Scusa, Piesi, sei bravissimo. Puoi fare un fermo immagine per darci l'illusione che il treno si fermi? Eh... Vediamo se lo fa. Perché lo può fare, credo. E vabbè, dice che dentro non so se sono cose difficilissime, però... Un fermo immagine che dice abbiamo ottenuto che si fermasse il freccio bianco Giulianova. Con tutte le cadute... Eccolo! Si è fermato. Vedi? Autorevoli fonti giornalisti che oggi commentano che la possibilità sia concreta, mi dicono. Sì, sì. Ce l'auguriamo. Ce l'auguriamo. Comunque, obiettivamente la... Quando mi hai detto tu che quando dura una fermata? Tre minuti circa. Anche di meno. Anche di meno. Poi c'è il tempo di decelerazione e il tempo di accelerazione per cui... E' questo? Sì, ma sono tre minuti, no? Cioè recupera volendo. Senza particolari problematiche. Il break even, il punto di... Che cos'è? Il... Il punto di pareggio... Ma come avevi detto, questo è nuovissimo per me. Break even. Break even. Il punto di pareggio. Il punto di pareggio economico per le ferrovie sono 15 persone a fermata. Oh, e non... Questo diceva Vasto. Su Vasto dice... Guarda, voi non ce l'avete 15 a fermata. Noi ce l'abbiamo. Ma infatti le ferrovie hanno risposto riguardo a Vasto. Hanno bypassato l'ambiente Giuliano. Eh, sicuramente non ho detto... Parlo la parola. Perché... Beh, noi lunedì parleremo di accessibilità, di accoglienza, di animazione e di promozione. Perché attraverso l'accessibilità noi possiamo abbreviare le distanze e rendere più accessibili le destinazioni del nostro territorio. E quindi il treno, la viabilità su rotaia è fondamentale. Ma perché la signora lo raggiunge in treno. Esatto. Ma quindi lei quando torna e sta su? Non mai più ormai? Eh... No, no, no. Il 4 luglio sono su. Perché c'è un compleanno. C'è un impegno personale. Eh, visto? Eh. Se no poi si arriva alla fine. Quello solo il 4 luglio. Poi scende mia moglie. E col treno sempre. Però nel frattempo... Forse a Giulianova. Eh, forse a Giulianova. Forse a Giulianova. Forse a Giulianova. Vuoi portare tu la signora? Eh, sta lì già. Non c'è bisogno, insomma. Che si sposti, eh no? Sì. Dunque è importante. Io volevo sottolineare la grande apertura che sta facendo il villaggio Salinello nei confronti del territorio. Cioè, l'investimento che è stato fatto nel discorso congressi va a produrre un campione regionale, se non sicuramente nel centro d'Italia quasi nazionale, con il connubio villaggio, ovvero capacità di tenere 4-5 mila persone con quello che è un centro congressi di stile alberghiero. Per cui saremo in grado di ospitare veramente degli eventi di livello internazionale. Però l'apertura che sta facendo, e qui faccio il rappresentante di categoria, che sta facendo questo campione nazionale, che è il Salinello, al territorio, non può essere univoca. Cioè, noi ci apriamo nei confronti del territorio e dell'economia locale. Ma è anche vero che poi, dopo, all'esterno, questo sforzo deve essere sostenuto. Cioè, ci devono poi essere i musei aperti, ci devono poi essere le persone che parlano l'inglese. Cioè, noi questo sforzo lo facciamo, e penso che il villaggio Salinello e anche altre strutture. Ma è importante che tutto il territorio segua questo discorso. Ecco, è importante anche ricordare, visto che lunedì avremo questo convegno, che per gli studenti dell'università che frequentano l'università di turismo a Teramo, viene riconosciuto un credito. Per cui, al di là del riconoscimento, da un punto di vista del credito, è un'opportunità per i giovani per venire ad ascoltare le eccellenze del territorio. Quello poi è chiusa la squadra, no? L'alberghiero... È perché io sono sotto esame, sennò la preside Baloni mi aveva promesso l'intervento suo di tanti professori, però, obiettivamente, in questo momento stanno facendo gli esami, stagliutiamo la preside... Sono tutti in commissione esterna. Tutti in commissione esterna, assolutamente, anche gli studenti stessi stanno facendo esame. In bocca al lupo allora... In bocca al lupo a tutti, chiaramente ci mancherebbe altro. Ci siamo passati tutti, direi. Ci siamo passati tutti. Chi più o meno bene... Chi lo ricorda qualcuno, che lo ricorda come un trauma, che succede... Però, hai visto oggi, Francesco, quando hai fatto la rassegna stampa, che ho trovato parecchie notizie particolarmente interessanti al punto di vista turistico, che vanno anche incontro a quello che dicevamo noi prima. La possibilità di fare il biglietto urbano tramite sms, questa... Con Baltur. La parte della Baltur è veramente una cosa grandiosa. Penso che sia il primo esperimento a livello centro-sud Italia, sicuramente. O anche altre cose. Come... Vogliamo parlare del primo social network dello shopping che stiamo ingegnerizzando come Confederazione di Assoturismo. Spero che Marino ci dia una mano, che Salinello parteciperà... Ingegnerizzato. Il territorio è in fermento sotto il punto di vista turistico. Chissà che siano dei segnali positivi. C'è sempre da lavorare che la concorrenza è notevole, vero? Sì, la concorrenza è notevole su paesi emergenti, che sono emersi e che si propongono anche in modo più aggregato durante le fiere internazionali, sulla rete, quindi che promuovono anche un marchio più forte rispetto alla disaggregazione con cui noi ci proponiamo a livello italiano sul mercato internazionale. E quindi mi chiediamo sempre presentare delle novità. Questo centro congressi va anche in questa direzione di offrire qualcosa in più, eh? Offrire qualcosa in più per destagionalizzare, per internazionalizzare e anche per alzare un po'... E quindi lei dovrebbe rimanere qua pure dopo? Io penso di sì. Più progressi fate, più lei sta qua. Quindi? A me piace stare qui. Ho incontrato una... A Udine sta proprio? Io vivo nel centro di Udine, ho uno studio di consulenza nel centro di Udine. Piove, nevica, tutto. Piove, nevica, ma c'è anche il sole, anche lì c'è quella gente, si mangia bene anche i friuli, sì. L'Italia è bella dappertutto. Qual è la specialità del friuli? La polenta con il frico. Con il? Frico, che è un formaggio miscelato con le patate. È il piatto principale? No, è il piatto caratteristico. Non è il più caratteristico. Voi lo fate al salinello? Noi l'abbiamo fatto al par centrale, perché mia moglie quando è scesa con il treno ha portato il formaggio e le patate sono state miscelate. Buonissimo. Veramente è un remix della fonduta in versione figurale. È un po' di fonduta. Io buona, non particolarmente dietetica, però decisamente buona. Guarda che apprezzo anche io più il lato eno del gastronomico del friuli. Buonissimi vini, buonissime cose eccezionali. Però quest'uomo lo vedo oggi che non vuole parlare di se stesso. Qui abbiamo una persona già collaboratore di Confindustria, già con ingegnerazione di progetti con il Real Madrid, che ci auguriamo che diventi una risorsa per il nostro turismo. Io ho conosciuto il villaggio salinello proprio quando, tra il 2007 e il 2010, rappresentavo il Real Madrid scuole calcio estive in Italia, Estonia, Ungheria e Finlandia in esclusiva. E avevamo iniziato a valutare insieme al villaggio salinello con una possibilità di un'apertura di una scuola calcio estiva all'interno del villaggio. Poi sì, appartengo al mondo Confindustriale. Ho avuto alcune cariche con Confindustria Udine e da lì è nato anche un progetto importante che è stata la creazione di un circuito di turismo industriale. industria e turismo andata e ritorno si intitola. Andata e ritorno perché? Perché l'obiettivo era quello di, attraverso le imprese, di ospitare i clienti e i fornitori, però farli rimanere sul territorio anche durante il weekend in modo che poi tornassero con le famiglie sul territorio per fare la vacanza. Quindi attraverso la scoperta economica potevano scoprire il territorio. Qui noi abbiamo bisogno di aiuto sul calcio. Allora Giulianova, il nuovo centro di Giulianova, visto i contatti con Real Madrid Beh certo. Il direttore è un grande appassionato di calcio. Quest'anno Real Madrid ha vinto nel basket, nel basket ha vinto il campionato a sebe e ha vinto l'Eurolea, Giulianova c'è intanto. Però l'anno scorso ha vinto la Coppa di Gioni. Né nella Coppa né nel campionato. L'anno scorso invece ha battuto l'Atletico Madrid in finale Coppa Campioni e Ancelotti ha avuto il suo successo. E invece quest'anno si è andati alla divisione, al divorcio tra Ancelotti e Madrid insomma. Quindi è fatto anche calcio, è esperto anche di calcio. Speriamo che ci aiuti Giulianova, te l'ho detto. Vediamo i due progetti per... Si porta Ronaldo, non credo. Ronaldo magari no, ma l'esperienza progettuale per utilizzare magari il nuovo centro calcio che il sindaco sta progettando, che dovrebbe essere a posto, magari si. Io ho sangue cestistico, comunque. Come? Ho sangue cestistico. Ma sai perché per l'altezza? Per l'altezza, no. L'ho prenotato, l'ha fatto, l'hai scutato, sì. Sì, a livello di dilettantistico sì, a livello giovanile anche a buoni livelli e poi ho anche partecipato a delle attività organizzative col mondo del basket. Ieri sera possiamo celebrare, ieri sera ha vinto lo Scudetto Sassari. A Reggio, vero? A Reggio Emilia ha vinto lo Scudetto Sassari alla settima partita, all'ultima partita. Tutti a piangere. Tutti a piangere all'ultimo secondo con la differenza che viene fatta da campioni. Sette partite hanno fatto. Sette partite, è bello. Bene, noi ringraziamo il dottor Firmani, bocca al lupo per tutta la stagione e anche per il convegno l'edì. Grazie al dottor Grimi della Confessor Centi, diciamolo, che ci è venuto a trovare di nuovo. Grazie, tra poco torneremo con Italia Calabrese e le sue, attenzione, psicoterapeuta, attenzione a tutti. Grazie, buona giornata. Grazie a tutti. Il tradizionale finale della rubrica Cara TV del sabato è con la psicoterapeuta Italia Calabrese. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo detto tema di periodo di esami, scrutine e quant'altro. Il tema che vogliamo affrontare stavolta, senza sesso, che ci dispiace un po' perché so che tu poi quando ti incontro ti piace l'argomento, eh? Sì, sì. Devo dire che sono stata fermata da tante persone. Non c'è niente di sesso nell'argomento di cui parleremo? No, oggi no. Qual è l'argomento? Allora, oggi ho pensato di parlare delle pagelle, il ritiro delle pagelle e tutti i comportamenti che ruotano intorno agli esami, al rendimento scolastico, alla fine della scuola. Vorrei partire da un dato oggettivo perché poi questo è quello che mi ha spinto a pensare a questo argomento. che da lunedì a ieri ho avuto quattro contatti, sia in termini di consulenza che telefonici, di ragazzi che avevano attacchi di panico o addirittura situazioni con una sintomatologia ossessivo-compulsiva, e poi spieghiamo anche che cos'è, legata al rendimento, legata agli esami. Allora mi sono detta, dico, probabilmente questo è un tema che è importante portare nella nostra trasmissione. Cioè, quali sono state le richieste di ragazzi tra i 19 e i 24 anni che nel rascio finale scolastico, quindi o con gli esami di Stato o con gli ultimi esami all'università, sono andati in tilte emotivamente, quindi hanno crisi di pianto, si bloccano nello studio, sviluppano forme di maniacalità nello studio, oppure addirittura non sono, cioè come aprono il libro, hanno addirittura anche attacchi di vomito, per la repulsione che c'è verso questa cosa. Ora, dietro a questo problema, dietro a questi problemi comportamentali, c'è ovviamente una tematica psicologica, e le tematiche, anzi più di una, e le tematiche psicologiche sono l'ansia da prestazione. Vedi, non mi riuscire a dare l'ansia da prestazione, mi torni sul sesso così. Ma sembra una prestazione. Ma sembra che forse quella definizione fosse solo per il sesso. No, 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 anche per gli esami. Anche per gli esami. Perché anche quello è un esame. Anche quello è un esame. L'ansia da prestazione. L'ansia da prestazione, poi c'è una lieve melanconia presente nel ragazzo, nella ragazza, che in realtà c'è da sempre, perché io poi, quando provo a dire queste cose, in prima battuta tutti mi rispondono, ma no, no, dottore, questo è legato solo al momento. In realtà poi andiamo ad esplorare e vediamo che i ragazzini già nella scuola elementare, addirittura mostrano i primi segnali di questa insicurezza, di questa ansia da prestazione. Ma che poi negli anni si cronicizzano e quando l'esame diventa più complicato, diventa più complesso, ovviamente il sintomo, la lieve ansia, si trasforma in un sintomo, solitamente un sintomo ossessivo. Per cui abbiamo ragazzi che studiano ore e ore e ore, oppure ad esempio abbiamo ragazzi che sottolineano tutto e poi ripetono e poi si fanno gli schemi e poi sottolineano con più colori e poi si riscrivono quello che hanno studiato, ma in un modo ossessivo. Ma anche le troppe ore di studio non vanno bene, tra l'altro continuative spesso, no? Perché per la paura di non fare in tempo passano troppe ore seduti a studiare, per cui noi sappiamo che l'attenzione in realtà decade dopo 20-30 minuti, quindi in realtà dopo massimo un'ora è necessaria proprio una pausa, lo studio non va fatto mai, tutto continuativo. Poi un'altra sintomatologia può essere quella che i ragazzini perdono l'appetito, per cui in una fase anche così importante, dove in realtà hanno bisogno di molte calorie, spesso non mangiano, no? Perché si chiude la bocca dello stomaco e quindi non riescono a nutrirsi, a mangiarsi il loro maritozzo con la cioccolata, per esempio, con il quale fanno spesso merenda. Un altro aspetto comportamentale è quella della solitudine, cioè un'altra cosa che fanno in questa fase è quella di non uscire con gli amici, di chiudersi dentro casa, spesso di attaccarsi anche a questi spazi comunicativi virtuali, quali può essere WhatsApp o Facebook, ma comunque perdono il contatto reale con i loro amici, perché dice che non hanno tempo, che se no non finiscono a studiare. E questo è un altro aspetto importante, perché parlare, uscire con gli amici, divertirsi, fare un giro con lo scooter, fare una passeggiata, farsi chi vive al mare, farsi un bagno al mare, cioè sono tutte cose che invece ritemprano l'organismo e permettono al ragazzino di recuperare energia e attenzione per poter essere più vigile e più recettivo nel momento in cui va a studiare. Questa è la parte, è quello che accade nei ragazzini. Poi abbiamo l'ansia dei genitori. Io ieri mi sono trovata a ritirare le pagelle e sono rimasta abbastanza così, o perché non riesco mai ad abituarmi a questo, sono rimasta un po' sconvolta quando magari dei genitori facevano le osservazioni sul 7, sull'8, sul 9, ma in realtà non è corretto, perché anche l'anno scorso si ha messo 7, poi in realtà mio figlio meritava 8. E io dico, ma quali sono i bisogni dei nostri figli? Quell'8, quel 9, è un nostro bisogno, è un bisogno dei nostri figli. Perché se i nostri figli sono sereni nel leggere la loro pagella, io credo che anche noi dobbiamo essere sereni, perché vuol dire che sono andati serenamente a scuola, vuol dire che quello che hanno appreso lo hanno appreso in modo pieno, perché sono andati sereni. E Badley ci dice che quando noi apprendiamo in una condizione di serenità, apprendiamo più informazioni di quando noi siamo in una situazione di stress, quindi di che cosa ci dobbiamo preoccupare? Di un 8 che non è arrivato, di un 9 che non è arrivato? Ma se i nostri figli sono sereni, cosa importa? Poi fanno i paragoni, Infatti apprezzo moltissimo il fatto che non ci siano più i quadri esposti, perché veramente siamo noi adulti che assumiamo dei comportamenti malsani, perché magari i nostri figli, alla fine se noi le cose non gliele facciamo pesare, i nostri figli nemmeno le notano. E quindi il comportamento di noi genitori anche in occasione degli esami dei nostri figli è importante, perché se il nostro figlio sta facendo l'esame di Stato e io una notte non dormo, cioè io a mio figlio gli carico un'ansia che non va bene, non è funzionale, perché praticamente questo ragazzino che cosa fa? Si comincia a preoccupare più di quello che dovrebbe, perché vede che io sono preoccupata e quindi gli aumenta l'ansia da prestazione perché gli aumenta la paura di sbagliare, di fare male l'esame, di deludere noi genitori. Ma studiare insieme con i compagni aiuto oppure divendo un modo di distrazione? Allora in alcuni casi può essere importante perché ripetere con gli altri è sicuramente un buono strumento perché si simula in qualche modo la... E si evita una di quelle cose che dicevi negativi, la solitudine per esempio. Sì, tra l'altro si evita la solitudine, ma poi si sdrammatizza lo studio, cioè nel senso che... Magari ci sta qualche distrazione, un'età, una battuta, però insomma... Un messaggio di un amico... Però insomma l'ambiente è più sereno. Sì, e poi soprattutto si parla, perché noi non dobbiamo pensare che... Il fatto che i nostri figli dicono hanno contatti su Facebook nel frattempo. No, la relazione personale reale è sempre quella più salutare. Cioè non dobbiamo pensare che il virtuale possa creare una condizione emotiva migliore di quella reale. Cioè comunque farci un giro con la bici e andare in piazza o andare sulla via e tirare due calci a una palla con altri due compagni, comunque è sempre più salutare che stare mezz'ora davanti a Facebook. Perché nella relazione interpersonale noi siamo costretti a mettere in gioco tutti gli aspetti di noi. Ci mettiamo in gioco nell'aspetto del linguaggio, nella postura, nella nostra emotività, nel controllo delle nostre emozioni. Cioè tutta una serie di cose. Grande spiegazione attuale. Pura verità. Brava la dottoressa Raffaele. Raffaele, un altro telespettatore fedele. Un abbraccio a Raffaele che salutiamo. Ecco sì, se lo ricorda quando ha fatto l'esame evidentemente. Probabilmente sì, se lo ricorda. Ma certo, credo che... Tutti lo ricordiamo con un po' di paura. Con la paura, ma è ovvio, no? Però dipende anche... Poi noi come genitori abbiamo anche il... C'è un'idea che non ti ricordi niente, che non sai niente e poi non è così per la verità. Succede? Ieri mi ha mandato un messaggio una mia amica che sta preparando il concorso da magistrato e quindi non ragazzina. Non ragazzina, ma dopo mesi che studia alla cremente mi ha detto io non mi ricordo nulla. Allora io ho detto questo mi sembra un buon requisito per vincere il concorso perché tutti noi quando abbiamo studiato veramente a un certo punto non ci ricordiamo niente. Perché sappiamo che se l'abbiamo studiato è naturale che sia così e quindi non lo prendiamo come un problema. come un problema esattamente però giustamente in quel momento arriva l'ansia perché ci copre dopo mesi che studio e non mi ricordo niente. E come l'hai aiutata? No, no, io ho fatto proprio una battuta e gli ho detto mi sembra un buon segno che tu non ricordi nulla. Perché vuol dire che hai studiato. Perché vuol dire che hai studiato e quindi l'esame hai ottime possibilità per superarlo. Lei mi ha risposto con una faccetta sorridente e poi mi ha detto tu sei una strega lasciamo perdere e quindi insomma abbiamo sorriso ambedue e l'abbiamo chiusa così. Però insomma fondamentalmente questo è che dobbiamo cioè il ruolo di noi genitori è quello di il ruolo dei genitori questo ragazzino quello di sgonfiare l'ansia sgonfiare l'ansia cioè l'esame non lo facciamo noi noi abbiamo fatto i nostri esami li abbiamo fatti in tanti momenti della nostra vita ma questo non è il nostro esame cioè se il nostro figlio prende 60 su 100 o 100 su 100 quella non è la vetrina di quello che noi siamo stati capaci di fare tutto dopo vale vero? Sì sì poi lo bisogna mettere nella vita che poi corrispondono sempre a quello che uno può stare nella vita anche perché se ritorniamo a un nostro cavallo di battaglia che è quello dell'imprenditore quando un imprenditore decide di selezionare un giovane non lo seleziona oggi come oggi non lo seleziona esclusivamente sulle competenze sulle cose che sa ma lo seleziona su come la persona è perché oggi l'imprenditore ha bisogno è vero sì di una persona specializzata da mettere nella sua azienda e quindi una persona competente formata ma ha bisogno anche di una persona con un ottimo senso pratico con una grande flessibilità perché purtroppo se non ha questa flessibilità perché il mercato è flessibile l'imprenditore per reggere nella sua azienda ha dovuto imparare a diventare flessibile e questo lo si chiede anche ai suoi dipendenti e quindi io dico che è più importante il tempo che i nostri figli hanno passato con i loro amici hanno passato in campagna hanno passato con gli animali hanno passato col costruire le cose hanno passato in cucina con noi a pasticciare perché lì hanno sviluppato il problem solving cioè la capacità di risolvere le situazioni che è quella che poi serve nella vita perché se andiamo a fare il manager di un'azienda o insomma tutte le mattine ci sta una lista di problemi e dove è vero che ci servono le competenze perché se noi le cose non le sappiamo non le risolviamo ma ci serve anche una grande dose di senso pratico e questo spesso a scuola oggi ci sono delle scuole dove accade e scuole dove non accade insomma questo sviluppo del senso pratico e noi genitori abbiamo un grande un grande ruolo io porto con me sembra un'esperienza che ricordo piacevolmente i primi anni che ho insegnato all'istituto Gualandi a Giulia Nova a quei tempi c'era un direttore di Torricella che faceva una volta alla settimana faceva scuola fuori dall'istituto per cui portava questi bambini alcuni andavano con le suori a pagare le bollette all'ufficio postale quindi gli davano i soldi però le carte intere quindi i bambini dovevano imparare a contare il resto quindi alcuni andavano all'ufficio postale a pagare le bollette perché vent'anni fa insomma l'accredito ancora non c'era e altri andavano con lui a fare la spesa in un cash and carry andavano a fare la spesa con la lista e quindi i ragazzini dovevano portare il conto delle cose che erano state acquistate di quanto bisognava pagare per cui prima di arrivare in casa i ragazzini dovevano sapere già quanto si era speso e se questo rientrava nel budget che nella somma inizia ha messo a disposizione e che accadeva e accadeva che questi ragazzini le prime volte ovviamente grande impaccio grande difficoltà poi invece si appassionavano a questa cosa ricordiamo che erano sordomuti 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 oggi queste persone io le ho rincontrate alcuni anni fa in un grosso raduno sono persone sposate e che lavorano quindi che hanno una loro vita autonoma e che hanno avuto una discreta funzionalità un discreto successo nella loro vita quindi credo che quando i nostri figli ci riportano nei pagelli l'aspetto di cui ci dobbiamo preoccupare è se hanno capito le cose che stanno vivendo e se hanno sviluppato andando a scuola e nel confronto con noi genitori un buon senso pratico delle cose io dico i nostri figli li dobbiamo portare noi genitori pure sempre dietro dobbiamo andare facendo al lavoretto gli uomini ad esempio se devono fare un lavoretto dentro casa e hanno un figlio maschio se lo devono portare con loro lo devono appassionare lo devono coinvolgere nelle cose pratiche un'ultima cosa se arrivano i sintomi cosa bisogna fare perché se noi ci cominciamo a rendere conto che i nostri figli si perché voi dovete pensare che i dati statistici ci dicono che nel periodo delle pagelle quindi nel mese di giugno aumentano aumenta notevolmente in modo significativo il numero dei suicidi tra i ragazzi che hanno una fascia d'età tra i 15 e i 19 anni quindi è un periodo di forte criticità allora il nostro ruolo deve essere quello di monitorare se noi ci rendiamo conto che i nostri ragazzi si stanno chiudendo non non escono più non mangiano vanno spesso in bagno perché probabilmente vomitano sono tristi non dormono la notte perché un altro aspetto importante è l'insonnia dobbiamo essere vigili e dobbiamo chiedere aiuto immediatamente perché stiamo entrando in una in un tunnel depressivo è una depressione di tipo reattiva ma è sempre una depressione cioè non è una depressione endogenea è una depressione reattiva però sempre depressione e quindi questi ragazzini vanno aiutati a volte basta semplicemente prendere contatto con uno psicologo e parlare con lo psicologo di quello che sta succedendo a volte può essere necessario anche dare un supporto farmacologico al momento e questo sarà o il medico di base o lo specialista a valutarne l'entità e la gravità diciamo e la tipologia di farmaco però la cosa importante è che non la lasciamo come ti posso dire non la ignoriamo ecco questa questo aspetto non va ignorato perché poi nei mesi successivi se il passaggio della paura non è stato ben elaborato può diventare una paura più strutturata per cui l'anno dopo la paura si può presentare in un modo ma anche se da un terzo anno passiamo a un quarto anno il quarto anno per esempio l'anno successivo il ragazzino rischia che studia di meno perché sta più bloccato perché sta più depresso e quindi si abbassa il rendimento scolastico oppure ad esempio questo si può vedere negli esami all'università ecco quindi io l'invito c'è un genere che ha paura ogni volta che lo fa pur sapendo che poi va bene però ogni volta è tanto che si se tanti ragazzi si bloccano anche nella carriera universitaria io ho visto che spesso nella mia casistica chiedo un aiuto allo psicologo degli studenti che hanno già fatto sette otto esami all'università e poi ad un certo punto vanno proprio azzerano le capacità di studio le capacità di di rendimento di attenzione cioè proprio sembrano persone totalmente diverse sembra che quei uno o due anni che hanno fatto l'università non sono esistiti perché? come per calere? perché comincia ad arrivare l'ansia da prestazione si fa sempre più importante perché comincia ad arrivare la triennale comincia ad arrivare la fine del percorso e quindi cresce l'ansia di non farcelo di non arrivarci di non essere all'altezza e di conseguenza si bloccano nello studio in realtà un piccolo percorso di psicoterapia delle sedute cognitive comportamentali e a volte se necessario un po' di supporto farmacologico e questi ragazzi ripartono e finiscono il loro percorso di studi quindi e non state a perdere tempo cioè se ha perso una sessione ne ha perso un'altra basta bisogna chiedere aiuto non bisogna dire ma moglie passa è un momento perché è successo perché l'amico se ne è andato è un sacco di storie perché poi noi genitori ci sappiamo raccontare a volte pur un sacco di giustificazioni non sta funzionando basta ne prendiamo atto c'è un momento di criticità e quindi bisogna superare e andare avanti abbiamo un minuto ma devo fare una domanda che prende un grosso discorso quando i ragazzi finiscono la media alle superiori vogliono andare dove vanno gli amici magari sbagliando perché non è quella la scuola adatta per loro c'è questo fenomeno del gruppo lì sono i genitori che devono intervenire con la dolcezza lavorare sulle capacità di nostro figlio di vostro figlio cioè quindi bisogna lavorare su questo perché insomma gli amici ti tirano perché poi una scelta sbagliata ci sarà in porta per tutta la vita sono di molta gente che poi cambia però poi quando si cambia sembra problematica parlare con i genitori anche in quel caso come noi abbiamo parlato questa mattina con Italia Calabresa tende alle paure in bocca al lupo ai ragazzi che hanno già superato adesso gli iscritti vanno a lavorare dormite fate un bel bagno al mare grazie a tutti voi di averci seguito grazie e buon fine settimana a tutti arrivederci grazie a tutti